bene è arrivato lunedì oggi siete a fare un bel mestiere sono level mezzo della pulizia del pollaio il giubbotto l'ho messo lì perché si scalda anche se ci sono tre gradi e adesso come diceva un mio ex collega che purtroppo non c'è più portem via una bella caretta merda e al suo posto un po di paglia che è il telo riparato dalla neve bella la neve neo da figa perché la neve è bella finché c'è da guardarla impara a usare il forcone con il computer 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 ancora ora che si mette la via rotta? se stavano tranquilli E adesso abbiamo finito, paglia pulito, le galline che mangiano e forse mi danno un po' di uova.